Sì, mi piace, mi trovo bene qua in Milano, una città bella, squadra bella. Sì, mi trovo bene qua. Io credo che l'italiano sia sicuro che tutti i compacti, organizzati, è difficile giocare. In tedesco sono più avanti, un po' così, così. Due cose distinti, sì. Partita difficile, una squadra sicuro che è organizzata e non voglio perdere gol. Sottofacciamo bene, squadra forte. Ora teniamo che stare così, con quella testa e avanti così, sì. Credo che sì. Il Milan sempre quando sta in Europa, sempre ce l'hanno paura di noi. Però vogliamo fare bene la Liga e l'Europa League, sì. Lui sempre vuole il massimo di noi e credo che lui vuole sempre vincere. E anche noi vogliamo vincere. È un gran mister, sì. Vediamo. È una squadra molto forte. Io credo che possiamo andare avanti con quella giovane squadra che ce l'hanno. Vincere la partita, lo sappiamo che è difficile la partita che ce l'hanno, perché sono una squadra forti, ma è un torneo e tutto una partita, una finale. Grazie.